Tutti negativi tamponi sui cinque dipendenti dello stabilimento Playa Blanco di Fossa Cesia. Negativo anche il test sierologico sui gestori dell'attività, chiusa immediatamente in via precauzionale. Il 2020 per noi del Playa Blanco finisce qui, hanno scritto i titolari su Facebook, che quindi hanno deciso di non riaprire per questa stagione, benché ne avrebbero la facoltà. Tutti i dubbi di questa vicenda saranno discussi nelle sedi opportune, si legge nel post. Il riferimento è all'esito delle analisi di una struttura privata che avevano dato tutti esiti positivi, facendo scattare l'allarme nel comune in provincia di Chieti. Da oggi i dipendenti e titolari possono liberamente circolare. Lo stabilimento balneare tra i più in voga del lungomare di Fossa Cesia era stato chiuso una settimana fa, a seguito dei paventati casi di coronavirus per di più asintomatici tra i dipendenti e adesso riaprirà l'anno prossimo, così da concludere, nelle intenzioni dei titolari, questa stagione ormai troppo compromessa.